Caterina Balivo crolla un'altra volta su Instagram ormai soprafatta dalla paura durante la quarantena dopo che il marito l'ha informata che il figlio era scappato di casa. La conduttrice durante una storia Instagram ha chiesto al marito che film avevano scelto di vedere. Guido Maria Brera dall'altra stanza le ha urlato che non avevano ancora scelto perché lui e il figlio stavano giocando a pallone in terrazzo. Brera come se nulla fosse ha comunicato alla moglie che il pallone era finito di sotto e che il figlio era andato giù a recuperarlo. Il marito della Balivo si è molto stupito che il bambino ha detto che sarebbe andato dalle monache a chiedere la palla visto che sotto casa loro c'è un convento. Caterina non ha reagito bene a questa notizia visto che il figlio era improvvisamente scappato di casa per recuperare il pallone e il marito non l'aveva neppure fermato. Per questo ha chiesto ai follower come sia possibile che spesso i papà siano così permissivi. La conduttrice ha chiesto per quale motivo se lei è momentaneamente assente succedono queste cose. La Balivo è molto arrabbiata con il marito perché gli ha spiegato la situazione come se fosse tutto normale mentre lei si sarebbe comportata in modo molto diverso soprattutto ora che siamo tutti in quarantena. La donna avrebbe preferito che Guido avesse fermato il bambino e che avesse preso in mano la situazione magari andando lui stesso dalle sue aree a chiedere se poteva recuperare il pallone. Quando il figlio è tornato in casa la conduttrice ha preso subito in mano la situazione e gli ha chiesto dove era andato ma il bambino ha iniziato a non rispondere. La donna si è molto arrabbiata e ha alzato la voce per farsi spiegare come gli era venuto in mente di scappare e recuperare il pallone. Dopo un secco basta del bambino è arrivato il momento della negazione. Caterina allora ha chiesto al figlio come aveva fatto il pallone a tornare a casa da sole e a quel punto è arrivata la missione che era andato dalle sue ore. La conduttrice e anche suo marito hanno iniziato ad urlare che doveva subito lavarsi le mani. La conduttrice e anche suo marito hanno iniziato ad urlare che doveva subito lavarsi le mani. La conduttrice e anche suo marito hanno iniziato ad urlare che doveva subito lavarsi le mani. La conduttrice e anche suo marito hanno iniziato ad urlare che doveva subito lavarsi le mani.